L'alba di una nuova era in giallo-blu. L'audace Cerignola chiude ufficialmente il capitolo Nicola Grieco e svela il futuro prossimo, che sarà affidato alla presidenza di Luigi Caterino. Il nuovo presidente Ofantino si è presentato alla piazza nella conferenza di giovedì. Onorato di essere il presidente di questa scuola di calcio, in quanto da cerignolano prendere questa responsabilità e vivere in pieno questa avventura mi onora tanto. Il progetto non dico che è cambiato ma è rimasto tale. Stiamo un attimino rivalutando tutti gli ingredienti. È ovvio che tutti vogliamo vincere. Quello che posso garantire è che faremo una stagione degna. Un ruolo importante anche quello rivestito da Rosario Marino, avvocato, dirigente e collante tra vecchia e nuova proprietà. Il suo è un monito sia per l'amministrazione comunale sia per l'imprenditoria locale. Quindi questa è la risposta che noi vogliamo e che vorremmo per il futuro, che poi è un'esortazione da parte di tutti, è questa. Una maggiore partecipazione a quelle che sono le vicende del calcio cittadino. Anche perché sappiamo che il calcio è un motore economico, muove anche l'economia locale. Quindi questo poi potrebbe anche avere un effetto importante di ritorno a coloro i quali ci saranno vicini. Protagonista atteso però è anche lo stesso Nicola Grieco, che rimarrà in orbita societaria con il suo contributo, ma lascerà le redini a Caterino dopo una gestione in cui è rimasto deluso dalla risposta del pubblico al Monterisi. Quello che io chiedo oggi, ci tenete veramente alla città, al calcio? Venite allo stadio. Perché pure la società nuova, se inizia a vedere che la gente, vengono questi 300-400 spettatori, non ne vale la pena perché puoi fare degli investimenti importanti negli ultimi tre anni e non vincere per tre anni e investire sulla squadra, ma soprattutto non vedere lo stadio pieno, ci fa molto male. La certezza invece da cui ripartire è Elio Di Toro. Il direttore sportivo, dopo la riconferma, si è già messo al lavoro per ciò che riguarda l'ambito tecnico. L'allenatore, che potrebbe essere Michele Pazienza, verrà annunciato a breve, mentre per il parco giocatori bisognerà lottare. Si prospetta un'estate calda in casa audace. Annunceremo chi sarà la guida tecnica del Cerignola per la prossima stagione. Per quanto riguarda i calciatori che erano in squadra fino a qualche tempo fa, penso che sia molto difficile che resterà il blocco di quella squadra.